Profumi al miele, otto fragranze dolci con l'oro degli dei. I profumi al miele sono un'esplosione di dolcezza. Scopri le migliori fragranze economiche, o di nicchia, per una scia indimenticabile. Note dorate e avvolgenti, il miele esalta gli aromi di agrumi, legni e spezie, rendendo unici i profumi di nicchia e quelli più accessibili. Dal corpo ai capelli, le fragranze al miele sono perfette per chi cerca dolcezza e sensualità, anche negli ultimi giorni di sole. Scopri come il miele, tesoro naturale, arricchisce e addolcisce i profumi, creando composizioni olfattive irresistibili.